che figura che figuraccia che ho fatto anche stavolta e che figuraccia che potrò fare in seguito le figuracce che c'è tutte quelle situazioni che ci portano a sentire imbarazzo sono all'ordine del giorno ed è una cosa normale ora c'è anche da dire che molte persone restano assolutamente bloccate rispetto alla paura di fare delle figuracce e questa che all'inizio una timidezza può trasformarsi addirittura in un'ansia sociale cioè tentativo di svicolarsi e di scomparire nel nulla di evitare tutte le situazioni che potrebbero mettermi in imbarazzo e quindi progressivamente ci si chiude in se stessi provocando ruminazione mentale ansia da prestazione e tutta una serie di altre problematiche di cui ti parlo approfonditamente anche nei libri e nei video corsi oggi voglio darti 5 suggerimenti così al volo chiaramente sono dei piccoli spunti ragazzi non pretendete che io tac con la bacchetta magica vi cambi per approfondire queste tematiche c'è la psicoterapia online comunque questi cinque spunti possono essere utili dimmi tu che cosa ne pensi se te ne vengono in mente altri scrivili nei commenti primo spunto di riflessione primo consiglio è chiediti che cos'è effettivamente questa paura o meglio di che cosa ho paura veramente e questa domanda ti permette di entrare dentro le tue paure piuttosto che di scappare di che cosa ho paura veramente che gli altri ridano di me e del fatto che gli altri ridano di me che cosa mi spaventa in particolar modo che mi giudichino come una persona poco intelligente e di questo che cosa mi spaventa ulteriormente quindi più fai contatto più ti liberi di queste paure secondo consiglio è impara a ridere di te metti un po di sana auto ironia prenditi in giro prenditi da solo ok non aver paura di scherzare di ridere di te si tu il primo a prenderti bonariamente in giro non parlando male di te terzo vedi e nota anche gli errori degli altri perché non è che sbagli solo tu solo tu fai le figuracce figuracce le facciamo tutti è anche il dottor ausilio fa continue figuracce quindi puoi stare tranquillo quarto lavora sulla tua autostima e come si fa è ci sono tutta una serie di tecniche di crescita personale ne parliamo in psy life nei vari video corsi quinto punto sbaglia di proposito cioè fai un po di figuracce apposta anche piccole ma che ne so quando vai al bar fai una gaffo quando sei con un amico prova a sbagliare di proposito e questo ti aiuterà moltissimo a riprenderti in mano la tua vita fammi sapere come vanno le cose iscriviti a psy life e iscriviti anche al canale youtube psicologia e vita ciao un grande abbraccio buona vita